con maria pellegrino nella speranza e nella pace è il motto del diciannovesimo viaggio apostolico di papa francesco al santuario di nostra signora di fatima in occasione del centenario delle apparizioni della beata vergine alla cova d'airia un pellegrinaggio che vedrà anche la canonizzazione dei piccoli veggenti francisco e giacinta marto morti in tenera età e beatificati da giovanni paolo secondo il 13 maggio 2000 sul significato di questa celebrazione abbiamo raccolto il commento di padre gian matteo roggio docente presso la pontificia facoltà teologica marianum è sicuramente un grande richiamo al valore dell'infanzia papa francesco parla molto dell'infanzia e nel nostro mondo c'è un'infanzia violata che ritroviamo alle porte di casa nostra basta guardare i tanti profughi che arrivano in italia e nel mondo c'è anche tanta infanzia abbandonata anche nel nostro mondo occidentale sazio ricco perché è un'infanzia privata di modelli di riferimento privata di ideali di vita privata ecco di un cammino vero di educazione papa francesco canonizzando francisco e giacinta ci ricorda il valore la bellezza dell'infanzia e ci ricorda anche che l'infanzia è una stagione con la quale dio non ha come dire rapporti saltuari al contrario con l'infanzia dio a rapporti permanenti e chiama addirittura i bambini a diventare santi non facendoli adulti in miniatura ma lasciandoli santi come bambini quello che maggiormente colpisce dei due fratellini testimoni delle apparizioni insieme con la cugina lucia dos santos e la pronta adesione al messaggio della vergine pregando e compiendo penitenze per la conversione dei peccatori e la del mondo fondamentalmente lasciano il messaggio di andare controcorrente questo può sembrare strano l'andare controcorrente noi non lo leghiamo i bambini lo leghiamo ad altre figure lo leghiamo ad altre età della vita però sia francisco che giacinta invece sono andati controcorrente perché vivevano in un mondo ossessionato dalla logica della guerra e a questo mondo ossessionato dalla logica della guerra hanno risposto invece con la forza debole dell'amore con il sacrificarsi per gli altri ma non il sacrificarsi delle trincee dove si moriva a milioni è il sacrificarsi per gli altri nell'amore situato nella regione centrale del portogallo a circa 50 chilometri dall'oceano atlantico il santuario della madonna di fatima è visitato ogni anno da milioni di fedeli la specificità del santuario di fatima è quello di ricordare la dimensione popolare e quello che ci colpisce a fatima è che è tutto grande cioè sono spazi molto grandi perché perché sono spazi fatti non per accogliere dei singoli individui che sono mossi diciamo così dal consumismo spirituale mi piace quel luogo vado a vederlo ci può essere qualcosa per me no quegli spazi sono grandi per appogliere una comunità di persone una comunità di persone che ha consapevolezza di chi è ha consapevolezza di dove vuole andare e ha consapevolezza di quello che deve fare ecco la parola popolo in fondo racchiude proprio questa comunità che ha questa consapevolezza di chi è di dove va che cosa deve fare ecco il santuario di fatima assolve a questa funzione a questa funzione rendere i credenti un popolo cioè rendere i credenti chiesa